ciao a tutti e bentrovati a un nuovo appuntamento con le video classifiche di matrimoni e musica stiamo per scoprire le canzoni che vi consigliamo per l'uscita degli sposi dalla cerimonia religiosa alla terza posizione Hornpipe di Handel alla seconda posizione incontriamo La vita è bella di Nicola Piovani e al primo posto di questa speciale video classifica la marcia per eccellenza di tutti gli sposi la marcia annunziale di Mendelssohn Eccole qua tutte e tre le canzoni che vi consigliamo per l'uscita degli sposi dalla cerimonia religiosa E la vostra scelta? Su quale canzone cadrà? Su una di queste? Con matrimoni e musica? Non vi resta che dire di sì Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti